Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Avete mai visto l'abitazione della foodblogger più conosciuta, Benedetta Rossi? È praticamente immersa in un oasi, un lusso che davvero in pochi possono permettersi Benedetta Rossi casa.In questi ultimi anni la donna ha raggiunto una notorietà davvero inimmaginabile, quello che prima era solo un sogno nel cassetto che appariva difficilmente realizzabile si è prontamente mutato in una splendida quotidianità Partendo con dei semplicissimi video in cui lei stessa si dilettava in cucina, lei insieme al marito, ha creato un impero che oggi regna su praticamente tutte le piattaforme Il marchio fatto in casa da Benedetta è ormai una vera e propria certezza Ad oggi lei continua a pubblicare le innumerevoli riprese di lei nella sua cucina, dove consiglia e spiega come poter realizzare dei piatti stellati semplicemente nelle proprie abitazioni Pubblicando assiduamente dalla propria cucina in molti però hanno iniziato a domandarsi come fosse strutturata la sua stessa casa Ebbene, la vostra curiosità oggi verrà soddisfatta.Cucina Benedetta Rossi Dovete sapere che la donna, assieme al marito ed al proprio cucciolo, vive immersa nel verde Ama la propria privacy e per questo motivo evita di mostrare completamente il suo rifugio, sono però trapelati alcuni scatti che vi lasceranno particolarmente senza parole Vediamo insieme quindi dove trascorre la maggior parte del suo tempo in tranquillità Dove abita la famosa food blogger Benedetta Rossi? La sua casa è davvero lussuosa Come vi abbiamo già anticipato, spesso nelle riprese fatte da lei stessa la vediamo dilettarsi nella propria cucina sperimentando ricette su ricette e realizzando delle vere squisitezze Ebbene, in molti hanno iniziato ad incuriosirsi e proprio per questo motivo oggi vi spiegheremo, più dettagliatamente possibile, come si divide la sua casa Così da potervi catapultare, anche solo virtualmente, in una vera e propria oasi di piacere Per chi non lo sapesse la sua casa si suddivide in ben due diversi arredamenti Casa Benedetta Rossi.Solitamente la donna registra le sue riprese nella cucina in legno pregiato, dovete però sapere che questa non è la sola L'unica differenza però è il desing, in quella che difficilmente mostra infatti l'arredo è molto più moderno ed la cucina è bianca Presenta inoltre una sorta di salotto in cui è presente un divano extra large, il quale viene affiancato da un focolare ed uno schermo piatto da fare invidia Il desing che predilige infatti è quello moderno, anche se all'esterno della casa vi è una vera propria oasi La sua abitazione nella campagna marchigiane infatti è praticamente circondata dal verde ed inoltre presenta un giardino incredibilmente ampio Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video